Decreto della portata di una manovra di 55 miliardi di euro, lavoro, imprese, famiglie e sanità. I settori interessati dal provvedimento, frutto di una lunga ed estenuante trattativa all'interno del governo con scontri al limite della rottura, poi il compromesso raggiunto e i nodi più o meno sciolti. Comunque resta la differenza di fondo all'interno dell'esecutivo tra anime diverse e forse inconciliabili. Tra le questioni che hanno provocato un ulteriore ritardo del decreto rilancio spica quello sulla regolarizzazione dei migranti che lavorano nei campi, colf e badanti. Alla fine una soluzione è stata trovata ma le scorie del duro confronto restano. Raggiunta un'intesa anche sulla proroga della cassa integrazione, sarebbero circa 10 miliardi a disposizione e si procederebbe con un rinnovo immediato di altre tre settimane per chi ne abbia già fatto richiesta. In un secondo momento ci sarebbero a disposizione altre quattro settimane. Per quanto riguarda invece il reddito d'emergenza, andrà alle famiglie che non hanno altri sussidi e sarà riconosciuto in due quote tra i 400 e gli 800 euro in base a reddito e nucleo. Ma intanto sale la protesta dei sindaci che chiedono interventi di almeno 7 miliardi altrimenti sarebbero a rischio i servizi principali a cominciare dalla raccolta dei rifiuti.